ragazze quando c'è zia natasha come si fa come si fa di coglielo provare e ciao ragazze benvenute o ben arrivate sul mio canale per chi non mi conoscesse io sono cinzia e indovinate oggi dopo tanto tempo che manco da youtube di cosa andiamo a parlare di lei della nuova palette di natasha denona la love face palette potevo non farvela vedere potevo non comprarla no ma prima di iniziare a farvi vedere la palette in azione se non siete ancora iscritte al mio canale qui sotto c'è un bottoncino rosso mi raccomando cliccateci sopra a voi non costa nulla e per me molto importante e attivando la campanellina entrerete a far parte nella makeup love community ora bando alle ciance la proviamo subito ma guardate quanto è bella sta palette mamma come mi piace ragazze lo troviamo subito insieme bando alle ciance ciance alle bande iniziamo allora iniziamo subito con l'applicare il blush visto che la base l'ho già fatta prendiamo un pennello io prendo un pennello e questo blush è un blush in crema molto molto scrivente è un rosa power molto molto acceso e andiamo quasi fluo devo dire a stenderlo con un pennello secondo me si dosa un pochino meglio e andiamo appunto ad applicarlo con sto pennello un pochino sul nasino mamma mia l'aspettavo ragazze da tanto tanto tempo e cosa mi ha fatto invogliare a tornare su youtube proprio zia natasha era qualche giorno che ci pensavo cinza celai faccio il video cinza celai faccio il video e fatto il video bisogna fare il video quindi torniamo a fare video su youtube allora ragazze guardate che splendore che è questo blush è la fine del mondo a me piace tantissimo questi praticamente sono i miei colori sono i miei colori e l'ho steso benissimo con un pennello un po' fitto bellissimo stupendo ora prendiamo un pennello per l'illuminante che sembra molto scuro in cialda ragazzi in realtà non lo è per niente non lo è per niente quindi va bene per una pelle chiara come la mia va bene anche per per limiti e poi sta a voi cosa vi piace se vi piacciono scuri meno scuri comunque questo ragazze come potete vedere è stupendo fino sulla punta del nasino marco di cupido un po' sulla fronte qua così giusto per dare uno quando colpisce il sole no veramente ragazze a parte gli scherzi io questa palette l'adoro l'ho già usata ho fatto già un make up e devo dire che è proprio stupenda è proprio stupenda mi piace parecchio allora ragazzi ci facciamo un bel trucco rosa prendiamo un pennello io prendo questo mini pennellino di precisione questo è di mula che vado a prendere juliette questo rosa qui e lo porto nella piga eppure a me mi si vede tantissimo stupenda ragazze stupendo potete guardare guardate 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 mi avvicino io senza zoomare mi avvicino io mi faccio vedere troppo bello e devo dire che molto pigmentata questa palette secondo me è perfetta per la primavera estate appunto perché a questi colori devono piacere ovviamente però questi colori rosa rosa lampone bellissimi stupendi poi prendo un altro pennello io volevo un pennello un po più piatto però vabbè pazienza prendo questo e prendo esme che è questo color lampone bellissimo bellissimo batto l'eccesso e lo porto su tutta la palpebra mobile e sto attenta ragazze a non andare a coprire il statuaggio e liner dopo vado a sfumare i bordi eh ma è veramente con questa palette potete ricreare un make up veloce anche con solo due semplici colori allora io volevo fare ve lo dico un occhio diverso dall'altro ma devo andare a prendere mio figlio a scuola e sinceramente non mi va di uscire con un occhio diverso dall'altro mi dicono ma questo è fuori di testa e quindi preferisco fare gli occhi uguali vado a sfumare con questo pennellino piccolino da precisione e come make up veloce proprio da tutti i giorni se portate questi colori ragazze abbiamo finito il make up direte ma come ebbene sì abbiamo finito il make up con affinity che è questo non è una base colore ma è un topper quindi andiamo con il dito speriamo di non accecarci e andiamo a mettere questo topper ragazze è una figata pazzesca questo topper devo dire che cosa non è bello cosa non è bello e io il make up lo lascio così io il make up lo lascio proprio così non vado neanche a intensificare cambio dito perché mi trovo comoda eccolo qua oh madonna quanto è bello cioè voi non potete capire quanto è bello questo topper è uno luce è luce cioè riflette la luce in modo pazzesco se invece e questo potrebbe essere un make up proprio così da uscire velocemente a me piace tantissimo se invece vogliamo fare qualcosa di più quindi io lascerei così vi dico la verità perché ho sotto anche le line ed è stupendo altrimenti si può intensificare l'angolo esterno con aico che è questo color qua questo prugna qua però essendo primavera mi dà appunto l'idea di cioè di di renderlo troppo scuro adesso però vabbè dai facciamo qua appena appena una b per metto giusto 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 un pochino qui anche se io non lo avrei messo però giustamente devo farvi vedere la palette e quindi vi mostro anche con questo colore tanti dicono che questo colore sia poco uniforme effettivamente io quando l'ho provato la prima volta anche a me mi dava quell'idea di essere poco uniforme come colore vi devo dire la verità faccio solo una riga e la congiungo con le liner io faccio così perché ho le liner tatuato e ragazze non so pazza con il liner tatuato quindi da giusto quella forma allungata però vi devo dire ragazze veramente che se voi lo andate ad applicare in abbondanza sulla palpebra anche a me sembra che sia a macchie che rimanga un po a macchie e gli ho dato così una forma un pochino allungata all'occhio senza esagerare cosa ne dite voi vi piace con lo stesso pennello magari prendo lo stesso colore e lo porto sotto un po la rima ciliare inferiore bellissimo è stupenda poi con il dito ma non riesco neanche con il dito mi serve un pennellino ultra piccolo e ultra piatto vediamo se riescono questo qua non è ultra piatto però vediamo se riesco a mettere un po di illuminante metto l'illuminante viso qui per dare appunto luce all'interno dell'occhio devo dire ragazze se amate natasha denone amate questi colori accattatevi il ragazzo è bellissima è bellissima allora l'unico colore che io non andrò mai ad utilizzare e questo colore qui che si chiama già di gd no gd gd perché è pescatino vedete che pescatino e io non sono un amante di questi colori pescatini e tutti gli altri colori lì farò fuori sicuramente ma appunto questo non lo so non mi piace come come colore ecco ora vado a spruzzare un po di spray fissante quello di uda lascio asciugare ragazze vado a mettere la matita nude questa qua è la rob di nabla questa è la tutta la 8 perché voglio appunto illuminare lo sguardo e quindi per andare a illuminare lo sguardo cosa mettiamo una matita color burro primavera ragazze primavera ora vado ad applicare un po di mascara io uso questo di it cosmetics che è stupendo ragazze stupendo vi faccio vedere il risultato finito aspettatemi ragazze il make up è terminato guardate che spettacolo il rossetto che sono andata ad utilizzare non è un vero proprio rossetto ma è un balm kiss kiss 409 fucsia glow di gerlaine e questo qua un lip balm e devo dire che sposa benissimo con questo make up occhi e da quando ho fatto il filler alle labbra uso tantissimi lip balm ma i rossetti quelli matt non mi stanno più piacendo per adesso non che non li userò mai più ma adesso vado sono in fissa per i lip balm e come poi potete vedere se come poi sapete che c'è sta moda di lip balm anche nabla fa trossetti lip jewels cioè luminosi cremosi e quindi c'è anche ragazze allora cosa dire di questa palette è stupenda ma cosa dobbiamo dire ragazze è stupenda questa palette non poteva fare una palette più bella per i miei gusti ovviamente io parlo sempre per i miei gusti ricordatevelo sempre ragazze è la palette ideale per me anche per la primavera cioè soprattutto per la primavera estate magari appunto senza questo prugna che intensifica troppo lo sguardo però anche così per la sera è bello e niente ragazze io adoro adoro il blush adoro l'illuminante ma cioè ma lo vedete quanto è bello questo make up quanto è bella sta palette vi ho convinto non mi ha pagato la zia natasha non mi regala niente zia natasha me li compro e quindi ragazze se vi piacciono questi toni è top ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero che siate contente che sono tornata mi raccomando spolliciate all'insù e vi mando un grosso bacione ci vediamo al prossimo video ciao ragazze